Contaminazioni culturali, storia e modernità, il filosofo Giulio Giorello alla Museo Paolo Orsi di Siracusa per tenere una lezione sui rapporti tra antichità e comunicazione. Professor, si parla di contaminazioni, da eco in poi, ma anche prima la contaminazione è quel mettere insieme alto e basso per aumentare la possibilità di comunicazione, è quello che lei cerca di raccontare? Sì, io credo che il termine contaminazione sia ben scelto perché anche se porta abitualmente questa parola delle connotazioni negative, la contaminazione di una malattia per esempio, in realtà il contaminare nel senso culturale è vitale e importante. Le grandi culture sono nate tutte da contaminazioni, fin dai tempi in cui in modo infaticabile i babilonesi traducevano dalle lingue dei popoli o che sottomettevano o con cui venivano in contatto. E la grande contaminazione del mondo antico che ha creato la scienza del periodo ellenistico ha avuto centri importanti come Alessandria, ma come Siracusa, Siracusa è una città che aveva i contatti continui con i grandi centri dove si incontravano studiosi greci, macedoni, ma poi soprattutto studiosi della Mesopotamia, egiziani di Alessandria. Quindi la contaminazione in questo senso era un po' la via per creare una grande cultura, direi non solo letteraria ma anche scientifica, quella che è stata ben trattata da Lucio Russo nella sua La rivoluzione dimenticata.